La vittoria dell'Agnonese sul San Marino e il pari della Recanatese a Castelfidardo complicano ulteriormente il campionato del San Nicolò che perde di misura 0-1 contro la quotata Vispesaro e si appresta anche mentalmente a fare proprio la consapevolezza di dover soffrire nell'anno del ringiovanimento dell'organico e di una politica societaria diversa e votata al contenimento dei costi. Tra le tante cose che non vanno in casa Biancazzura, un solo punto raccolto nelle ultime sei partite, una spicca sulle altre. Questa squadra non va in gol e quando crei poco e segni zero i problemi non possono essere ricondotti esclusivamente agli attaccanti. Veniamo alla cronaca, passa solo un giro di lancette e la Vispesaro si rende pericolosa con la prima incursione in area di Baldazzi assist per Radima, il tiro è debole e para d'Ostiglio. Un minuto dopo il San Nicolò reclama il rigore per un fallo su Maisto ma il direttore di gara fa proseguire. La Virtus gioca a viso aperto, la Vispesaro la punisce al nono con Bonacunto bravo a raccogliere un assist di Bellini e a trafiggere d'Ostiglio. Vissini in vantaggio. Al dodicesimo i Biancazzurri hanno la prima buona occasione per pareggiare con una punizione tesa di Chiacchiarelli ma Marfì la salva in angolo. Ancora San Nicolò con Diaglie al venticinquesimo che raccoglie un cross di Chiacchiarelli tiro al volo del senegalese che finisce alto sopra la traversa. Trentasettesimo occasionissima Virtus con un'altra punizione di Chiacchiarelli. Il portiere respinge sul palo poi la difesa respinge in angolo. Il San Nicolò continua a spingere ma è la Vis ad avere un'altra occasione al quarantaduesimo con un tiro ravvicinato di Olcese parato in due tempi da Dostiglio. La palla era finita sul palo. Finisce qui il primo tempo, squadra a riposo. Nella ripresa stesso Copione parte subito forte la Vis con un'incorsione di Baldazzi e Assis per Olcese che colpisce il palo esterno. Al quinto occasione Virtus con Maisto sulla destra, cross per la testa di Cane che finisce di poco sul fondo. E la Virtus a spingere con azioni insistite soprattutto sulla fascia destra ma manca la giusta finalizzazione. Al diciassettesimo ennesima punizione di Chiacchiarelli che colpisce la traversa poi di Benedetto di testa non c'entra la porta. Al ventiduesimo ancora Virtus con un diagonale del nuovo entrato Massetti di poco out. Due minuti dopo altra punizione di Chiacchiarelli, respinta corta dall'estremo difensore ospite ma l'azione sfuma perché nessuno del San Nicolò riesce ad approfittarne. Al ventinovesimo ci prova di nuovo Chiacchiarelli ma il tiro finisce sul fondo. La Virtus con la forza della disperazione le prova tutte per acciuffare il pari. Al quarantunesimo un tiro di Maisto però è troppo centrale e face le preda di Marfella. Finiscono in attacco gli uomini di Campanile su azioni da calcio d'angolo di Chiacchiarelli che sfuma però in un nulla di fatto. Terza sconfitta consecutiva per un San Nicolò che oggi avrebbe meritato di più ma la situazione in classifica ora si fa davvero preoccupante. Mola invece la Vista anche se la squadra vista oggi non sembra una corazzata imbattibile. Mister un'altra sconfitta per il San Nicolò per oggi ci è sembrato una buona squadra una sconfitta immeritata sotto tutti i punti di vista. Sicuramente secondo me abbiamo fatto una buona prestazione come l'avevamo fatta pure domenica scorsa. Ecco io sono rammaricato soprattutto per i ragazzi perché vedo che stanno dando l'anima stanno offrendo pure buone prestazioni però purtroppo poi domenica commentiamo sempre solo sconfitte. Quello che mi sento di dire è di ringraziarli per l'applicazione, per la voglia che stanno mettendo e sinceramente si meriterebbero qualche soddisfazione in più. Soprattutto nel secondo tempo avete messo sotto la Vispesaro però insomma forse manca veramente un finalizzatore vero? Manca finalizzatore però a me quello che interessa non è questo, è comunque creare occasioni gol, oggi l'abbiamo fatto, oggi contro una squadra che è stata attrezzata sicuramente per vincere il campionato perché la gente in panchina come Cruz quindi insomma è tutto dire però l'abbiamo affrontata col piglio giusto senza essere intimoriti dalla forza dell'avversario, è normale che quando vai sotto di un gol è tutto più difficile quindi magari c'è stata pure qualche un po' di frenesia, non cercare di recuperare il risultato però penso che alla fine ci sarebbe stato meritatissimo il pareggio. Mistero una vittoria contro il San Nicolò, una squadra comunque la vostra oggi veramente cinica? No, una squadra che avevo chiesto su questo tipo di campo che è veramente fraseggiare è veramente quasi impossibile, di mettere grandissima attenzione, fame, cattivera e determinazione in tutte le situazioni, sia di fase offensiva che di fase difensiva e devo fare i complimenti ai ragazzi ma veramente tanto, tutti, compresi tutti quelli che sono entrati, che si sono calati in un'atmosfera difficile per loro, in un campo dispersivo, gibboso dove una squadra di calcio non ha facilità a giocare, questo sia noi sia il San Nicolò che è comunque una squadra con qualità tecnica importante e faccio i complimenti ai miei ragazzi per come si sono comportati, come si sono applicati dal primo all'ultimo e con la voglia e la determinazione di portare a casa tre punti e questa è la cosa fondamentale. Oggi però avete sofferto più del solido? Ma nel finale è normale, facciamo il gol all'inizio, abbiamo avuto due o tre occasioni al primo tempo, due inizio di ripresa per chiudere la partita, non siamo riusciti a farlo, è normale che poi San Nicolò inizia a uno, due, tre, quattro, cinque, sei giocatori sopra la gara della palla e tu devi comunque coprire, devi coprire, lavorare per non prendere un gol che per noi diventava un problema grosso.